Il comune di Pistoia ha annunciato un importante intervento sull'edilizia popolare con finanziamenti e lavori senza precedenti nella gestione della SPES. Con un finanziamento di 1.600.000 euro, l'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Tomasi riqualificherà alla Certosa l'edificio popolare delle Fornaci in via Gentile dove risiedono 161 abitanti. Questo progetto prevede il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi e delle caldaie, il recupero delle passerelle esterne e delle coperture. I lavori curati da SPES partiranno a settembre. Dopo aver sanato la società SPES abbiamo iniziato come amministrazione con risorse ad intervenire sulle case popolari. Prima la messa a norma di 32 alloggi di risulta, ovvero quelli che non potevano essere assegnati perché non ha norma. Poi sei grazie a fondi PNRR della Società della Salute e adesso facciamo il primo grande intervento su un immobile nostro appunto con 74 alloggi, 74 famiglie perché è patrimonio del comune, perché lì vivono delle persone, perché anche dentro la Certosa ci sono appartamenti chiusi e non possono essere assegnati. È un programma che ci siamo dati e vogliamo incrementarlo da qui a fine mandato. Quando partiranno i lavori? Noi adesso firmeremo una convenzione con SPES e SPES avrà l'onere di fare il progetto ma già ci stanno lavorando e appaltare i lavori. Quindi stiamo lavorando con loro perché partano il prima possibile e vengono affidati i lavori ad una ditta che appunto li dovrà eseguire. Però ripeto, è un programma che come abbiamo fatto con le scuole all'inizio del mandato scorso abbiamo iniziato per provare a mettere la norma tutte, adesso vogliamo pesantemente incidere sulle case popolari, la loro condizione e la loro assegnabilità. Quindi un pezzo alla volta con risorse importanti vorremmo metterle a posto. Questi interventi si affiancano ad altri progetti di riqualificazione del territorio come quelli di Via d'Aragona e Via Vittorio Veneto finanziati con fondi del PNRR.